Bene, bene, voglio poter dire come sarà la pace spesso. Bene, bene, bene. Ma chi sei tu e soprattutto dovevi essere a casa? Ed è stato fatto, mio signore. Allora voglio morire. Droni, ma dove eri finito? E poi... Potresti spiegarmi? Non sto capendo più niente. Droni, ti prego, dimmi che stai scherzando. Sta zitto. Droni, mettiti la tua in angolino, voglio conoscere meglio Sans in questo momento. Ok, va bene. Ti consiglio di stare attento Sans, se non vuoi fare una brutta fine. Sembra che a quanto quale qua si trova a combattere un bel po'. Va bene, Droni. Eh? È a passo un po' stare. Uh, bene, bene, è la mia occasione. Devo approfittarne per scappare. Dove pensi di andare? Da cavolo, è scomparso e non sei chiuso. Droni, trovali immediatamente. Se no qua a mia dan, io da mente tanto che non hai vero. Stai affatto. Ehi Sonic, ti prego, mettiamoci in un posto, ti devo parlare. Ti prego ho bisogno del tuo aiuto. Sonic, in poche parole c'è sto tizio di nome Darkled che è tipo fortissimo, ho tenuto una idea. vuole proprio farmi del mare, in poche parole, vuole conquistare tutto. E verrà anche da te, insieme a Droni. Ti prego, Sonic, puoi aiutare. Sei con me, Sonic? Allora... Ok, perfetto Sonic. Iniziamo a partire con l'azione. E si è il suo chocs, non il tuo male è senza. I movi possibili modi ma andamette ancora quello giocato solo se non si deve scudere. Strano, non può essere andato così lontano. Trova la via a compagare. Da credo, io ti sconfigevo. Iniziamo a partire.